Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è stato ospite ieri pomeriggio al Gifoni Film Festival, partecipando alla presentazione di una fiction rai con protagonisti Ragazzi Difficili. Istituirò stasera stessa la squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini, ha annunciato Bonafede. Il decreto ha continuato, è pronto ed attende solo la mia firma. Dopo questa giornata bella e speciale mi recherò a Roma per formalizzare l'atto. Non è un punto di partenza perché ho capito che il mondo degli affini, il mondo dei minori, è un mondo che è incredibilmente spezzettato tra le competenze. Ora, questo spezzettamento crea poi delle anomalie strane che non devono esserci perché i bambini devono essere protetti nel nostro paese e allora sto cercando di fare un passo in più. Cioè la giustizia deve cercare, come ho scritto ieri, di far sentire il fiato sul collo su tutti gli operatori che poi devono accompagnare il percorso del minore. E lavoreremo a questo progetto, non è una proposta di legge perché su quello c'è una commissione, c'è una proposta di legge per l'istituzione di una commissione in Parlamento. In realtà io come ministro ho la possibilità di accelerare i tempi e infatti la istituisco oggi. Grazie.